Italia Informa, Star Conference, abbiamo con noi una presenza molto gradita, Pascal Eritier, Chief Operation Officer, direttore generale e anche responsabile dell'area Asia-Pacifico, di un gruppo di grande importanza che detiene anche dei marchi molto noti in Italia e nel mondo, del gruppo Massimo Zanetti, un gruppo per farvi capire le dimensioni molto particolari come sentiremo in questa intervista e che ha un fatturato di circa 900 milioni di euro, quindi un gruppo importante. Allora, tu Zanetti, buongiorno intanto, però volevo capire, facciamo capire com'è organizzato questo gruppo, intanto in che opera, opera nel beverage e ha nel suo cuore, nel suo DNA il caffè? Assolutamente, questo gruppo nasce in 1973, quindi quasi 50 anni fa, all'origine c'è un fondatore Massimo Zanetti che ha dato il nome a questo gruppo e che ha creato, ha comprato un marchio molto noto oggi nel mondo, perché è il marchio globale Segafredo e i primi anni l'ha fatto diventare un leader in Italia, che tuttora nel mondo Orica è ancora leader, è rilevante la sua importanza, ha più di 12.000 clienti su tutta Italia. È stato anche un pioniere perché è andato un po' come Marco Polo, ha iniziato ad andare all'estero a fare acquisti, a comprare delle società che è rimasto nel DNA del gruppo, ha comprato in Francia, poi in Austria, ha poi andato in Finlandia, è andato in Brasilia, è andato in America, le ultime acquisizioni che sono state rilevanti è stata la Boncaffè in Asia perché volevamo avere un piede importante in una parte del mondo dove la crescita del consumo del caffè è importante, senza parlare delle ultime acquisizioni che sono note un po' al pubblico recente, l'Australia, il Portogallo, siamo più di 60 società in più di 40 paesi, fa di noi anche con una specificità interessante che siamo verticalmente integrato dalla piantagione di caffè fino al consumo, visto che abbiamo la catena di caffè Sega Fredespresso che è la più importante diciamo come caffeteria in franchising, è la numero uno italiana nel mondo con 370 caffè in più di 50 paesi quindi fa di noi un gruppo globale con 90% del fatturato all'estero, quindi molto internazionale. Senta, diciamo prima del prezzo del caffè che è calato fortemente, soprattutto nell'ultima parte, nell'ultimo trimestre fondamentalmente nel 2018, c'è una cosa strana nel bilancio 2018, cala leggermente il fatturato e proprio perché cala il prezzo del caffè, però l'utile aumenta del 10%, come avete fatto questa magia? Beh, perché siamo bravi, diciamo è abbastanza... no, siamo bravi nel senso che abbiamo una strategia molto definita andiamo sul food service, quindi oreca, caffè, ristoranti, alberghi, dove il valore aggiunto del nostro lavoro è maggiore dove i prezzi sono maggiori, dove la rettabilità è maggiore abbiamo anche il mass market, la grande distribuzione, dove stiamo elaborando dei prodotti mettendo sul mercato dei prodotti con un prezzo un po' più alto elaborato poi abbiamo anche una gran parte di quelli che chiamiamo private label o prodotti customizzati per i nostri clienti come McDonald's, Dunkin' Donuts per dire alcuni o Emirates piuttosto che prossimamente la Qatar Airways facciamo il caffè customizzato quando abbiamo una componente di private label, come dire, rilevante nel nostro bilancio quando la materia prima, il prezzo della materia prima scende e il fatturato scende automaticamente perché è il cliente che beneficia del prezzo quindi per essere bravi abbiamo lavorato sui quindi la strategia del food service ma anche sui costi, lavoriamo sulla riduzione dei costi per essere più efficienti a livello di produzione, anche a livello di tutti gli acquisti che facciamo del costo e siamo veramente, da quando siamo entrati in borsa abbiamo, come dire, trasformato un po' questo gruppo in una multinazionale che continua a crescere, che continua a portare risultati basta di vedere l'ultimo bilancio abbiamo un 10% di utile netto in più che sono 20 milioni sette anni fa eravamo alla metà quindi vuol dire che abbiamo generato cassa abbiamo diminuito il debito e poi abbiamo questo aspetto anche che alcune volte dobbiamo rinunciare a qualche volume se i volumi di caffè non rendono e quindi la strategia ha portato anche a dare valore al gruppo e non soltanto cercare il fatturato per il fatturato il dato mi sembra, lei mi diceva che il prezzo del caffè è sceso del 18% sì, più o meno e il fatturato è sceso del 18% quindi è evidente che sia stato valore in maniera intelligente da tante cose che lei ci ha detto senta, lei prima mentre parlavamo dico, lei chiederò l'impatto che ancora poi è tutto da vedere perché ancora più, diciamo, segnali qualcosa è stato fatto ma il rischio di questa guerra dei Dazi ha detto, la sorprenderò con la risposta mi sorprenda il nostro gruppo, diciamo che non siamo meno impattati di questa guerra dei Dazi perché abbiamo delle unità produttive questa è stata una volontà e una strategia e un business model del gruppo di essere presente con produzione dei vari mercati di riferimento abbiamo 18, anche 19 adesso di torrefazione quindi in America abbiamo tre torrefazioni la Brexit non ci importa tanto perché abbiamo la torrefazione in Inghilterra in Asia abbiamo una torrefazione in Vietnam tutta quasi nuova tre, quattro anni adesso che il fatto di produrre in Vietnam di consegnare il caffè nei vari paesi che fa parte dell'Afta non ci sono Dazi quindi abbiamo un gran beneficio di avere tutti questi siti di produzione e il mondo del consumo del caffè va verso di più in più una regionalizzazione per non dire il multimarca il cliente diventa molto più interessato al caffè si informa e per esempio i australiani bevono il caffè prodotto in Australia per un discorso di freschezza del prodotto ma anche un discorso di nazionalismo vogliono bere il loro caffè e per questo che abbiamo anche acquisito una torrefazione importante a Melbourne che ci permetterà di espandere ancora di più la nostra presenza e i nostri affari in questo continente ma anche ci permetterà di esportare vari marchi di quello che chiamiamo urban che quello che chiamiamo artisan in giro per il mondo iniziando dall'Asia molto interessante emerge anche un chiaro modello di business anche molto intelligente diciamo ma il caffè piace in tutto il mondo c'è qualche area che non piace? no il caffè allora ovviamente il caffè è più maturo il consumo del caffè in Europa o piuttosto in America piuttosto anche in Australia in Asia sta arrivando dei paesi come la Cina che oggi consumano più o meno 120 grammi pro capita comparativamente ai campioni del mondo che sono la Finlandia che hanno quasi 11 chili c'è ancora possibilità di progresso però i cinesi vanno veloci la Cina no il Giappone ha messo quasi 50 anni per arrivare a 4-4,5 chili pro capita la Cina ci metterà molto meno la cosa è che quello che vediamo nel consumatore è l'aspetto sostenibilità e il nostro gruppo su questo aspetto di sostenibilità sta lavorando anche molto c'è in Francia per dire uno abbiamo il prodotto dell'anno 2019 con le capsule biodegradabili in Australia abbiamo appena preso un premio come product organic dell'anno nella divisione beverage non alcolico anche in America Kauai abbiamo il miglior caffè del Kauai che è un premio con il miglior prodotto non OGM la sostenibilità ci teniamo molto perché è un aspetto anche fondamentale dove il consumatore ci presta di più in più attenzione bene può fare previsioni per il 2019 diciamo al mondo finanziario abbiamo dato un po' un outlook di quello che ci aspettiamo nel 2019 è un fatturato come dire abbastanza stabile perché vediamo che i prezzi del caffè verde sono abbastanza stabili una crescita dei volumi a seconda dei vari mercati e ovviamente l'Europa crescerà forse meno che l'Asia dove è previsto una crescita più importante e a livello di EBITDA abbiamo dato come stima tra altri 3 e 5% in più e quindi noi ci aspettiamo un anno 2019 soprattutto come dire interessante a livello di quello che arriverà come novità arriveranno delle novità in Italia nella parte grande distribuzione arriveranno delle novità nel mondo delle caffeterie arriveranno novità nel mondo dell'innovazione dei prodotti come le ready to drink in America o piuttosto in Asia in Middle East quindi il gruppo ha lavorato tanto in questi ultimi anni per proporre e arrivare sul mercato con prodotti a valore aggiunto che secondo noi piacerà molto al mercato e al consumatore bene ringrazio moltissimo ricordo Pasquale Ritie direttore generale responsabile oltre direttore generale parliamo della massima carica all'interno del Massimo Zetti fondatore presidente e tutto però poi c'è lei eh sì e anche che oltre che oltre che direttore generale è appunto anche responsabile dell'area proprio area pacifico parliamo appunto di un gruppo importante come quello di Massimo Zanetti basta dire seca freddo per capirsi insomma l'importanza del gruppo bene grazie mille grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori grazie a tutti Grazie a tutti.